Dopo mesi di silenzio sulla vicenda di Silvia Romano, la volontaria 23enne della Onlus Fanese Africa Milele, a novembre scorso la Procura Romana ha aperto uno spiraglio di speranza. Silvia Romano è viva ed è nelle mani di un gruppo islamista fondamentalista che la utilizzerebbe per uno scambio di soldi. Silvia Romano, dice la Procura, è viva ed è nelle mani di un gruppo islamista fondamentalista che la utilizzerebbe come scambio per soldi. Si prospettano quindi nuovi scenari nella complessa macchina delle indagini portata avanti dai Carabinieri dei Ross coordinati dalla PM con la Iocco, fatta di informative ed intelligence e di diplomazia, intrecciati da analisi di tabulati telefonici e documentazione messa a disposizione dalla Procura dalle autorità cheniote. Ma ora ciò che un'altra Onlus Fanese impegnata nel continente africano l'Africa Chiama chiede è che non si spengano i riflettori sulla vicenda di Silvia. In questi giorni unitamente ad altre organizzazioni della società civile in Italia abbiamo proposto di dare la voce a Silvia, di chiedere a tutti di non spegnere i riflettori, che le indagini vadano avanti anche se la Procura di Roma assicura che Silvia è viva in Somalia, sequestrata dagli Shabab, un gruppo giadista che opera questi rapimenti per riscatto e per avere un denaro. Speriamo che Silvia nella prossimità delle feste natalizie possa fare ritorno nella sua famiglia e possa quindi essere liberata al più presto. Si è detto molto, anche a sproposito, alle volte sull'operato di volontari e cooperanti delle Onlus, su cosa fanno, come lo fanno e perché lo fanno. E anche su Silvia è stato detto parecchio, ma è bene sapere che chi va in certi scenari non va impreparato. Un volontario prima di arrivare sul posto segue un percorso ben preciso. Sì, c'è un percorso. L'Associazione l'Africa Chiama è un'associazione che crede da sempre nel valore del volontariato, sia in Italia sia ovviamente in Africa sul campo. Abbiamo delle persone che appunto svolgono un ruolo proprio da un punto di vista professionale, quindi quelli che noi denominiamo cooperanti, cioè persone che svolgono il ruolo di coordinatori sia delle attività e sia sono responsabili della gestione finanziaria dei progetti e che in qualche modo appunto garantiscono che tutto avvenga nel migliore dei modi. Il ruolo dei volontari è un ruolo centrale. È importante quindi che il volontario venga formato, e appunto la maggior parte delle associazioni in Italia lo fa. È un ruolo importante, decisivo, che va anche valorizzato. Quindi è importante continuare sicuramente a motivare al volontariato perché è un'attività veramente di alto valore morale. Dall'altra parte è giusto farlo con una formazione precisa e puntuale.